Nel Regno Unito è un'icona del sapere, ma per l'attivo americano PBS, evidentemente, questo non basta. Si chiama Mary Bear, è una docente di 63 anni ed è la massima studiosa di civiltà classica ed oltremanica. Il suo ruolo nella serie Civili Sessions è centrale, e gli spettatori della Gran Bretagna l'hanno potuto verificare quando il documentario è stato trasmesso sulla BBC. Ma quando lo stesso programma è passato sulla attivo americana PBS, la signora Bear non c'era. La storia è stata raccontata dal Corriere della Sera. Non riesco a fare a meno di pensare che una anziana signora leggermente decrepita con lunghi capelli grigi non sia ideale per la attivo americana, ha commentato ironica la docente al Times. Mary Bear che è scritto su Twitter di essere piuttosto triste. Mi sembra che la mia, intervista, NDR, sia stata rivista in modo più sostanziale degli altri. Sono la vittima più evidente. E mi chiedo perché, cerco sempre di difendere le signore anziane coi capelli grigi. La voce fuori campo è fatta da questo liev scriver, ha detto. Penso che sia un peccato. Vedere una tesi sostenuta da qualcuno di persona sarebbe stato ben accolto in America. La professoressa non ha ricevuto alcuna spiegazione dalla tv americana, ma ha fatto notare che le era già accaduto in passato di essere censurata. Un suo programma su Pompei era stato adattato in America ma lei era stata completamente rimpiazzata da un presentatore a stelle e strisce.